Martedì sulla nostra provincia la pressione sarà in aumento, questo garantirà un cielo poco nuvoloso, sereno soprattutto in pianura. Tuttavia non è da escludersi qualche isolato rovescio pomeridiano sull'altopiano di Asiago, temperature stazionari e valori in linea con il periodo. Mercoledì bella giornata di sole su tutto il Vicentino, correnti fresche e secche dal nord-est avranno il merito di mantenere un tasso di umidità basso, un clima perfetto per le attività all'aperto, estremi termici in pianura 12-27. Giovedì cielo sereno poco nuvoloso, poche nubi lungo la fascia prealpina, temperature rimarranno invariate. Per quanto riguarda la tendenza anche nei fini settimana saranno sole temperature gradevoli, fattori principali, sarà bassa la probabilità di qualche rovescio pomeridiano a ridosso delle brevi.